Amici di Zon, siamo all'Università di Salerno, oggi è martedì, il che significa che questa sera ritorna a Vivi Unisa di Notte. A questo punto possiamo dire che ritorna anche Enzo Volpe a Vivi Unisa di Notte. Sì, ritorno anche io ringraziando l'organizzazione del martedì universitario di Vivi Unisa di Notte che dopo qualche anno mi ha rivoluto e sono felicissimo di ritornare a Fisciano, che è praticamente casa mia in quanto sono fiscionese di nascita. E' soltanto che quest'anno rientriamo un po' più forte perché oltre a quello che è il mio stato professionale rientriamo con un progetto che è la nuova Label, che è Society, creata con Giovanni De Feo, Giri Squillante e Michele Stanco e stiamo cercando di portare avanti questo progetto con una determinata impronta e devo dire la verità, ci sta dando già qualche buona soddisfazione. Ecco, il tuo collega ha accennato la Society Music, la nuova Label. Ci dici qualcosa in più, da come nasce l'idea, il perché e soprattutto quali sono i progetti che porterete avanti? Sì, certo. Inizialmente è un gruppo di lavoro di amici, di persone che credono in una stessa passione, in uno stesso ideale, uno stesso mood usando un termine prettamente musicale. e cerchiamo appunto di cercare nuovi talenti, nuova musica e di portare la nostra passione sul mercato. Nel panorama internazionale musicale, sottolineando il fatto che è stata fatta una scelta ben precisa, quella di non produrre musica normale, infatti una delle priorità è di non produrre la nom, cioè andare a fare esclusivamente not ordinary music, perché vogliamo essere un'etichetta che abbia una propria impronta, che soprattutto si identifichi in un certo segmento senza voler abbracciare per forza ogni genere musicale, e che qualsiasi cosa vada bene. Ciò che ci piace, ciò portiamo avanti, quindi è una scelta puramente di nicchia. Si può trovare qualche vostro lavoro? Come si possono informare le persone che ci guardano da casa sulla Society Label? Certo, su tutti i nostri profili Facebook, sui nostri siti internet, sul profilo Facebook della nostra etichetta, Society Music Recording, sul sito www.thesosiedemusicstudio.com, abbiamo tutti i canali pronti, aperti, Instagram, Twitter, Facebook, qualsiasi cosa, siamo indicizzati bene per qualsiasi ricerca e richiesta. Quindi a questo punto a me non resta nient'altro da dire che ricordarvi la Society Music Label, ci vediamo stasera a Vivionisa. Ci vediamo sicuramente stasera per divertirci tutti quanti insieme, anche perché fa caldo, quindi non possiamo fare altrimenti, facciamolo di sera che è meglio. Grazie. Grazie.